Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su BlueStars con Thomas per la prima volta. Lui è la prima volta che ci gioca. Adesso faremo la prima partita. Ai pocio. Thomas. Thomas, dobbiamo fare il dono. No, ci sta qui, tu me lo l'hai pronto. Dai, abbiamo già perso. Due, penso. No, Kit l'ho ucciso. Thomas, prendi la palla, meno male che non hanno fatto gol. Io uccido Kit. Ben nero. No, dammi fare gol. Bravo. No, pegna non gioco la palla. Thomas ti è ucciso. No, ci sta l'orso di nita. Ma dov'è la palla? Ma dov'è la palla? E fa giocare. No, ecco. Ma dov'è la palla? Ma dov'è la palla? Ma dov'è la palla? Ma dov'è il problema? No no. Ma dobbiamo fare gol. No, ma dov'è la palla? No! No! ragazzi damas ce ne sono i blu ler rari si vero? si allora facciamo un'altra partita giocatori è il primo piazza 3 6 1 1 1 2 1 2 3 Sì, no, no, no. sono troppo forti l'ha presa a pipi la paglia si mi piace un altro giro l'ha presa a pipi la paglia l'ha presa a pipi la paglia faccio gol abbiamo perso mi devo cambiare brawler mi ami carico un pomo l'ha presa a pipi la paglia 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 ma come? dobbiamo fare gol non possiamo perdere questa partita l'ha presa a pipi la paglia l'ha presa a pipi la paglia il topo è troppo forte l'ha presa a pipi la paglia lo ripresa a pipi la paglia l'ha presa a pipi la paglia Venito faccia! Morite! Ci sta un'altra rosa! Rosa tiene la palla! Dai! Qual è Blower, Metti? Aspetta, me la cambio io! Mi metto lui! Ascoltà, lui! Quanto è messo? Tu vuoi tirare a ritmi? Non mi ricordo! Non mi ricordo che ci sono ancora i Blower, ma non mi ricordo che ci sono ancora i Blower. Guarda quel perri di Porto Corre! Guarda quel perri di Porto Corre! Guarda quel perri di Porto Corre! E per la guarda! Guarda la mia abilità di questo Blower! Ciao! È morto! È morto! Lalla sol! Lasciate stare la povera palla! ok ragazzi siamo con Thomas che ha cambiato blu ah io ci do scegli stai la no 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 ma quanta avevo poco di rito ma Penny che mi ha cambiato guarda sono con mio cugino guarda tengo il mio cugino arancione bull muori guarda lo vedi siamo in quattro ora guarda bravo dammi siamo in quattro avesse e tre guarda tre guarda tre Aiuto! Non ci sono scegli! Ne vedo perni! Bull, muori! Ci sta scegli, Claude! Mancano 26 secondi! Meno male che la palletta sta indietro! Bull, muori! Mancano 10 secondi! Treta, finisce il timer! Partita non cruza! Abbiamo visto! Mi cambia il blole! Come ci sono i miei fatti, buono l'idea? Qua! Tengo anche una leggenda! Così chiama? È un giudolaro! Quale? È un giudolaro! Non è un giudolaro! Non è un giudolaro! Hai messo a Bull! Aspetta, sto convincendo! C'è il nostro cammino, lo sto facendo una volta, ecco! Ok! Tieni anche Bull con la skin! Sì, con la lana che sta a prima! Mi ha scelto un giudolino del tuo elico! Siamo con Clenchy! Sì, con la lana che sta a prima! Ahia! Ci sta Iris! Ecco, lo lago la testina alla palla! Clenchy! Ci sta un altro! Ho segnato! Allora, Iris muore! Aiuto! No, cosa fa il mio amico? Ha da uccidere Jackie! No! Stanno andando a fare gol! Si stanno uccidendo Clenchy contro Clenchy! No! No! No, quella lei vuole essere furba! Vuole fare gol! Si! Vai! E' avviva! Evviva! Eccaci qua! Siamo con due leggendari! Ma quanto è grande quella! Ma quanto è grande quella? Meglio! Si chiama così? Non lo so che non è! Si chiama così? Non lo so che non è! Stop! No! Non lo so! Ci sta il topo! No! No! Ha ucciso il topo! No! No! Dove accadere? No! No! Non ci vedo! No! 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 C'è il topo! No! ci sta Penny! Devo fare gol! Devo fare gol! Devo fare gol! No! L'ha presa Byron! Primo gol! Dobbiamo fare solo l'ultimo e abbiamo vinto! No! Nemmeno io! Devo fare gol! Dobbiamo fare gol! Sì! Evviva! Stardrop? Niente! Ragazzi, noi possiamo anche finire qua! Se vi è piaciuto il video per la prima volta con Thomas che gioca a Blue Stars, lasciate like e iscrivetevi al canale! E ci vediamo in un prossimo video! Ciao!